Qua ci troviamo in questo magnifico ristorante pizzeria c'è anche un ampio spazio c'è servizio docce gratuito qui c'è mio nipote in base del relax ma chi la vende la formula 1 qui c'è il parco gioco per i bimbi ecco qui dotato dei massimi comporta questo ristorante e ancora a rinubile attiva ecco qui vicino che c'è ma qua c'è parecchio spazio e qui c'è la campagna ecco la campagna la campagna toscana l'imponte stamonte bucciano